Presidente, ha sciolto le riserve? Ho un convincimento molto maturo, poiché in questi 150 giorni ho potuto pensare, valutare e soprattutto mettere al centro gli interessi dei miei territori e della mia regione. Adesso mi sta riuscendo anche un inizio di attività da Senatore della Repubblica, che naturalmente nel quadro degli interessi nazionali farò sì che riguardi anche l'interesse regionale. Questa sera io metterò in evidenza che l'opzione riguarda la scelta del Senato, quindi considererò conclusa l'attività del mio mandato di Presidente della Giunta regionale. Domani formalmente comunicherò al Presidente di Pangrazio e al Presidente del Senato che sarò definitivamente Senatore dopo questi cinque mesi che hanno avuto una coabitazione. Non vedo l'ora di poter raccontare anche questi primi cinque mesi da Senatore. Con quale spirito cambia il suo ruolo oggi? Ma intanto con una consapevolezza amministrativa di un qualche significato, perché ho fatto il consigliere comunale in un piccolo comune, ho fatto il consigliere provinciale, ho fatto il sindaco di una città a capoluogo, ho fatto il Presidente della provincia, ho fatto il consigliere regionale, ho fatto il Presidente della Giunta regionale, ho fatto anche la persona giuridicizzata per lotta politica e adesso faccio il Senatore della Repubblica, che è lo spazio del Parlamento e della norma superiore. Con questo spirito mi metto a disposizione per questa fase delle questioni ulteriori rimaste non fronteggiate di Regione Abruzzo. Ha aperto la famosa raccomandata dunque? Non è ancora arrivata, mi è arrivata una comunicazione che mi anticipa l'arrivo della raccomandata, presumo domani o dopodomani che arrivi questa specie di pergamena che io considero con grande importanza, ma la mia lettera invece di disimpegno è già pronta e spero domani di poterla rendere nota. Comunque la raccomandata non è arrivata.